Sarà un promo del Summer Festival, ma soprattutto un grande spot per la città. È il video che sarà pronto entro i primi di giugno, per il quale giovedì è stato completato il casting. Almeno un'ottantina le persone che si sono presentate per le selezioni, per scegliere i testimonial del filmato ideato e diretto da Ivana Smudia, giovane regista serba già conosciuta nel mondo dei videoclip musicali. Tra loro molti giovani, ma la filmmaker dovrà individuare anche una coppia di anziani. Un video sintetico, una novantina di secondi, che con una serie di scenette girate in città, dovrà svelare ad uno ad uno gli artisti che si esibiranno sul palco del Summer. Praticamente prenderà varie situazioni all'interno della città, dove i nomi degli artisti saranno scritti nelle nomi delle vie, l'insegna dei negozi, magari un mangime per i piccioni buttato per terra che riformerà la scritta, nei dolci delle pasticcerie, quindi avremo un 360 gradi su tutta la città, raccontata attraverso i nomi degli artisti che si esibiranno all'evento. Il video, che sarà presentato da Mimo D'Alessandro il 4 maggio all'Ambasciata Italiana di Madrid, nel corso di una serata promozionale in cui anche Luca avrà un suo spazio, verrà messo in rete dal 7 di giugno, utilizzando siti e social network. Una diffusione virale, come si dice in gergo, per portare in giro per il mondo il brand del Summer Festival abbinato alla città di Lucca.